Immobili e rapporti finanziari per un valore di circa 230.000 euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo ad Antonino Mazza. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Mazza è stato già condannato in secondo grado, corrito abbreviato, in quanto ritenuto tra i promotori di un'organizzazione criminale che controllava in modo strutturato lo spaccio di droga, hashish, cocaina e marijuana nel quartiere Zen 2, mediante l'utilizzo sistematico di vedette, l'organizzazione in turni dei singoli pusher e una gestione comune della cassa con un giro d'affari che arrivava fino a 2.500 euro al giorno. In tale ambito, la Procura della Repubblica di Palermo ha delegato l'esecuzione di mirati accertamenti di carattere economico patrimoniale agli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza, che hanno evidenziato una disponibilità patrimoniale sproporzionata rispetto alla capacità reddituale ufficialmente dichiarata. Sulla scorta di questi accertamenti, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha infatti ritenuto che i beni, oggetto dell'onierno sequestro, costituissero il reimpiego dei proventi derivanti dall'attività illecita. Si tratta in particolare di due abitazioni in villette, due terreni a Casteldaccia e quattro rapporti finanziari.